In questo aggiornamento della rubrica ho due posizioni da discutere e quindi da condividere, la prima è sicuramente riguardante il petrolio che è la continuazione quindi dello scorso video, quindi mercato sul quale ho dedicato alcuni episodi di questa rubrica nell'ultimo periodo e poi un posizionamento short che è quello che vedi in questo momento sul grafico che ho sul mercato di euro-dollaro. Prima di andare a vedere questo trade riprendo un attimo il mio diario di trading, eccolo qui, diario di trading che sul secondo trimestre di quest'anno vede come prima operazione il trade che ho già discusso ampiamente nello scorso video, trade di bassa qualità sul quale l'ingresso è stato veramente poco qualitativo sul petrolio e che successivamente dopo aver registrato il video nel pomeriggio ho deciso di chiudere con un costo di 107,50 euro circa. Quindi ho aggiornato anche la tabella relativa al decision making, quindi dopo aver fatto questo ingresso ho deciso poi di fare l'uscita, quindi l'ingresso fatto il 26 aprile e l'uscita il 30 aprile nel pomeriggio dopo aver visto che c'è stata praticamente la rottura del livello 82, quindi diciamo accelerazione di volatilità che poteva portare più in basso, quindi ho deciso di tagliare questo trade che già come spiegavo nel video non era un trade di qualità e quindi mi porta a casa questo costo ma soprattutto la lezione sul mercato, su questo mercato del petrolio che sicuramente è stato un trade che è durato qualche settimana, molto interessante da questo punto di vista l'esperienza poi che ne ho tratto. Una cosa che ho notato in questo trade è che quando ho spostato il mio focus dall'operare bene al risultato e quindi al costo è come se avessi proprio spostato il focus sul come ottenere quel determinato costo e quindi alla fine tutto ciò si è rivelato proprio come costo operativo, quindi il risultato sostanzialmente riflette un po' quella che è stata poi la mia attenzione in questo caso. Per quanto riguarda il secondo trade, in questo caso parliamo di euro-dollaro, quindi mercato delle valute, mercato forex che ho tradato proprio il 30 aprile, dovrebbe essere un trade del 30 aprile, adesso andiamo a verificare ed è un trade che in questo caso è un trade praticamente uguale al trade che abbiamo sul platinum che ha fatto anche Arduino, mi piaceva il livello soprattutto di stop per questa posizione, quindi l'idea quindi è investire short su questo mercato, quindi sul dollaro americano posizionando un investimento su quest'area qui, quindi ampiamente sopra il massimo settimanale lo possiamo andare a vedere che è questo qui, quindi doppio massimo lower close dell'8 aprile, c'è stato un po' di ritracciamento, l'ingresso è stato fatto praticamente quando c'è stata, diciamo dopo questa outside bar che è anche una FTV 26 aprile, quindi eccolo qui, quindi trigger operativo avvenuto quindi in chiusura di settimana il 26 aprile, il lunedì c'è stato un inside, il 30 aprile ho inserito l'ordine sell stop alla rottura di questa outside bar che è stata eseguita e successivamente, quindi dopo questa barra di volatilità short che andava a convalidare il setup daily che era una conferma del trend o meglio comunque del setup settimanale c'è stato poi questo forte recupero, quindi il primo maggio ripartenza long, successivamente il 2 maggio ancora inside con una coda, quindi con un'ombra e poi nella giornata di venerdì scorso, quindi questo forte movimento al rialzo che comunque va a ritestare la zona di 1.08 e chiude a tail, tail bar, quindi una tail bar comunque di ampia volatilità e nella giornata di ieri si viene a creare un inside. Quindi in questo momento rispetto al mio ingresso che è avvenuto su questo livello chiaramente il mercato si trova sopra e quindi la posizione in questo momento mostra un negativo. Perché questo trade? È un trade che se andiamo a vedere un po' la struttura sul settimanale veniva fondamentalmente da un range ormai consolidato, ampio, che aveva proprio questo livello di 1.0730, 1.0740 insomma l'area 1.07 circa come livello di minimo e l'area sopra 1.10 come area di vendita con questo spike che è avvenuto verso la fine dell'anno. Ora per quanto riguarda questo trade dal punto di vista di informazione, quindi di price action che cosa è successo? Che la settimana dell'8 aprile qui abbiamo avuto un doppio massimo lower close che è un trigger del mio piano operativo o comunque un trigger operativo del metodo di Artforex e che ho atteso dopo la sua convalida di essere confermato sul giornaliero. Il giornaliero chiaramente ha mostrato la sua conferma, come dicevo, il 26 aprile e quindi ho fatto questo ingresso. Lo short, quindi perché? Perché chiaramente non è solo il trigger, però perché il mercato in questo caso con una chiusura in volatilità con un trigger operativo mi sta indicando la possibilità di instaurare un ulteriore movimento short che può andare a prendersi l'area 1.05, quest'area qui tra 1.05 e 50, 1.05 potrebbe anche arrivare un pochino più in basso, però questo livello tra 1.05 e 1.05 e 50 è un livello molto importante sul settimanale, però su questo mercato perché va a coprire un range ancora più ampio, se vogliamo, sull'euro-dollaro e proprio su questi minimi 1.05 è stato più volte acquistato ormai da gennaio 2023 e quindi da gennaio 2023 e durante la fine del trimestre sempre del 2023. Ora, durante invece il primo trimestre dell'anno il mercato è rimasto appunto all'interno di questo range, adesso sembra che ci sia appunto questa possibilità dopo questa chiusura di andare a prendersi proprio queste zone. Ed è qui insomma che in qualche modo se il mercato dovesse tornare short, eventualmente poi andrai a prendere profitto. Però prima di fare questo ragionamento insomma dicevo che l'investimento, quindi lo stop è proprio posizionato sopra il livello tondo 1.09, siamo qualche punto sopra questi massimi, il doppio massimo quindi settimanale e proprio perché nel momento in cui c'è una pianificazione di ingresso short, diamo la possibilità in questo caso al mercato di eventualmente di falsare ulteriormente questo massimo e eventualmente poi valutare un'uscita sul fallimento di tutto il piano, il progetto di trade oppure insomma rimanere in posizione e poi chissà valutare anche ulteriori gestioni come un incremento o riduzione dell'investimento, o meglio dello stop, mantenendo lo stesso investimento o riducendolo eccetera. Situazione che è questa effettivamente adesso può, diciamo ho valutato due scenari al momento visto che siamo comunque, mentre registro siamo a martedì, ieri c'è stata questa inside. Per quanto riguarda il mio progetto di trade che appunto chiaramente prevede una continuazione dello short l'idea è che questa candela di venerdì scorso che mostra questa barra non venga diciamo a essere confermata come candela di forza o meglio cioè questa tail vorrei che questa tail barra sia confermata come movimento di swing, di swing high e quindi eventualmente di falsa rottura del mio trigger d'ingresso. Questo che cosa significa? Che se il mercato dovesse, allora diciamo facciamo il ragionamento al contrario se il mercato mi va adesso a mostrare che ne so un ulteriore inside oggi e domani però questo può venire oggi, domani, insomma due o tre giorni, comunque dovesse andare a fare qualcosa del genere quindi conferma in realtà della tenuta di questo livello, zona area 1.0730 circa con una pin bar, una tail, comunque siccome questa è un'area, questo punto di ex supporto potrebbe, resistenza che adesso potrebbe diventare supporto, dovesse creare una price action long sopra questo livello e convalidata, chiaramente sarebbe invalidante per il mio piano e quindi andrei a tagliare probabilmente il mio trade e quindi a registrare questo posto nella mia attività. Può succedere chiaramente che il mercato possa andare direttamente su e supponiamo che oggi, domani, chiuda direttamente bullish sopra questo livello di 1.08 a quel punto andrei proprio a chiudere il trade. Qualora invece dovesse verificarsi un mercato, diciamo, che tende a tornare short e annulla questo rialzo che potrebbe essere un momento, diciamo, di euforia da parte del mercato quindi nel momento in cui torna short, allora, insomma, non andrò a fare nulla sul mio trade e quindi manterrò questa posizione proprio perché è in linea con il mio piano. È una situazione che abbiamo discusso in realtà anche questa mattina in training room perché mi ricorda, anche se è una situazione diversa, quella di agosto 22 se non ricordo male era il 12-15 di agosto eccola qui, vediamo un po', eccola qui ecco, ecco, la situazione la situazione che segnalavo stamattina in training room e che abbiamo analizzato era proprio questa situazione qui eravamo quindi al 10 di agosto 2022 quando chiaramente qui avevamo un mercato che aveva fatto sicuramente c'era una tendenza short più ampia però aveva già creato appunto questa gamba short più ampia e il mercato era andato a falsare questo setup operativo quindi un doppio massimo l'overcolosio sul daily confermativo di quella che era una situazione sul settimanale di un trend short in atto anche qui il mercato che cosa fa? Crea poi nelle giornate successive un movimento di vola e questa barra del 10 agosto mi ricorda molto quella del venerdì scorso qui il movimento in tre giorni poi è stato rimangiato e quindi il mercato è tornato al ribasso poi come si vede qui è andato a riprendersi questi minimi il mercato poi crea ulteriori altre false rotture però insomma sappiamo che il mercato vive di questi movimenti si fa anche movimenti a volte controintuitivi o comunque dei movimenti che possono diciamo indurre a pensare di voler andare in una direzione anziché in un'altra e quindi questo fa del mercato diciamo anche la sua imprevedibilità però ecco questo per dire cosa? che lo stop, lo stop ampio in questo caso come insomma anche in quello più recente, quello attuale permette un po' di fare un ragionamento e quindi essere meno reattivo sul mercato e quindi non agire in maniera reattiva ma proattiva quindi capendo quali sono le situazioni è chiaro che in questo caso come dicevo prima se dovesse crearsi una situazione di ribasso di nuovo ritorno long su questo livello ora supportivo diventa un livello supportivo chiaramente la situazione non è confermativa del mio piano diverso è se per esempio qui si venisse a verificare quello che abbiamo visto nella dinamica di agosto 22 in una situazione chiaramente temporale diversa ma che come dinamica insomma mi ricorda un po' questa situazione chiaramente il mercato non è che si comporterà sempre non si comporta sempre allo stesso modo sono i pattern più o meno sono ripetitivi se lì per esempio il movimento annullativo del bar è avvenuto in tre giorni qui potrebbe venire in uno, in tre, in cinque non possiamo saperlo così come non possiamo sapere se avverrà in realtà un movimento confermativo di questa costruzione long ad esempio però io ho un piano, un piano operativo con uno stop con un livello di investimento qualora insomma dovesse cambiare sono pronto a chiudere, a rivalutare poi settimana successiva quella che potrebbe essere poi una nuova view operativa per questa settimana avevo ancora una view short tra l'altro il mercato di sterline è abbastanza simile quindi insomma non ci sono anomalie da questo punto di vista quindi rimane sempre tutto abbastanza allineato bene io come al solito ti ringrazio per aver visto questo video oggi quindi il mercato in questione è il mercato dell'euro quindi questo nuovo posizionamento short abbiamo visto insomma la chiusura, la chiusura a costo del petrolio mercato che insomma mi ha fornito in qualche modo una lezione mi ha fatto capire un po' alcune dinamiche anche personali insomma questo è parte un po' del processo dell'esperenziale che sto facendo anche con questa rubrica e mi fa piacere anche condividerlo vedere i vostri commenti per capire un po' quali sono i vostri punti di vista se insomma non l'avete visto vi ricordo comunque di andare a riprendere magari qualche altro video precedente di là del risultato operativo per capire se ci sono degli spunti che possono tornare utili in questa attività altrimenti vi ricordo ci sono sempre altrettanti video tecnici e formativi all'interno di questo canale sempre sulla price action, sulla mentalità e sul mindset del trader che possono essere molto utili per questa attività se questo video ti è piaciuto o vi è piaciuto vi ricordo comunque di lasciare un like e un commento per farmelo sapere intanto vi saluto buon trading e alla prossima ciao